Fa caro allora vitalizia agli ex parlamentari condannati, come è andata? Siamo usciti dall'ufficio di presidenza perché si tratta dell'ennesima porcata, non abbiamo voluto prendere parte a questo scempio, un esimo scempio dei cittadini che vengono presi in giro, perché qui si tratta di provvedere a eliminare un vitalizio, quindi un privilegio inaccettabile per i condannati, in realtà saranno pochissimi dopo questa delibera, quasi nessuno, fra tre anni Berlusconi continuerà a prendere 8 mila euro al mese di vitalizio, non rappresenta, ad esempio potrà verificarsi la situazione per cui sarai ineleggibili ma potrai prendere il vitalizio, queste situazioni paradossali e soprattutto chi deciderà ancora se un vitalizio deve essere erogato o meno in caso di condanna, i partiti, torneranno a essere i partiti in ufficio di presidenza a decidere, non sarà una misura automatica, si tratta di una presa in giro semplicemente per fare un po' di propaganda elettorale, a pochi giorni, a poche settimane dal voto, a cui non abbiamo voluto prendere parte, considerando anche il fatto che non abbiamo potuto presentare delle proposte, come Movimento 5 Stelle, la Presidente Boldrini ci ha mostrato un foglio, un testo questa mattina ed era o prendere o lasciare, questa è la loro democrazia. Vitalizio revocato per pene superiori ai 6 anni, escluso l'abuso d'ufficio e c'è l'istituto della riabilitazione così? Sì assolutamente, non c'è solamente escluso l'abuso d'ufficio ma ad esempio il finanziamento illecito, alcune fattispecie importanti di corruzione, è stata fatta ad hoc per salvare gli amici che ancora sono influenti all'interno dei partiti e la riabilitazione vuol dire che tutti quelli condannati all'epoca di Tangentopoli per esempio negli anni 90 continuano a prendere i vitalizi e questa porcata andrà avanti.